Ciao, qui c'è un sole incredibile, sembra quasi maggio, vabbè. Stasera volevo prepararmi la cena e portarmi avanti. Sto facendo le omelette. Facilissimo. Latte, uova. Ho fatto 8 uova, tanto siamo in 5. 60 grammi di latte con la farfalla nel bimbi. E poi le faccio prosciutto e funghi, prosciutto e mozzarella, un po' miste. Le sto cuocendo. E l'altra volta i bambini sono piaciuti tantissimo, per cui ho pensato di riproporle, visto che stasera mio figlio va all'allenamento prima, quindi mi devo portare avanti con la cena, se no non mangiamo. Alcune le farcisco solo con prosciutto, per la mia figlia che dopo lei non le vuole, le funghi, e altre anche con il formaggio, ho messo un po' di scamorsa. Vengono carine, questa è la prima. Dov'è? Qua. Provateci, veloce, facile, ricetta quasi sicura per quasi tutti i bambini. Ciao. 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 Ciao.